Ritrovarsi per ricostruire ciò che era e sapeva fare. Al nuovo anno, Colombo chiede questo. L'imperativo è ripartire dagli ultimi 30 minuti della sfida di Avellino, dove i biecazzurri avrebbero meritato miglior sorte. Bisognerà però crescere nella proposta di gioco e tornare a difendere meglio. Col Latina all'Adriatico, recuperi e rientri importanti. Da Plizzari a Craia, da Palmiero a Colai, l'italo-albanese ha smaltito la Borsite e risponderà presente. Difficilmente, come Palmiero, partirà dal primo minuto. Il probabile 11, Plizzari, tre pali. In difesa il rientrante Cancellotti, Brosco, Ingrosso, che sarà preferito a Bobben e Milani. A metà campo Aloi, vertice basso, Mezziali, Mora e Craia se supera il lieve attacco influenzale, in tal caso panchina per Giabua. Davanti Cupone, Tupta e De Sogus. Dunque addio sempre più vicino per Lescano. In pressing la Feral Pissalò, che ha offerto un giocatore oltre ad un forte conguaglio. In casa il Pescara è reduce da tre capò consecutivi. Sei gol incassati, nessuno all'attivo. Contro Catanzaro, Taranto e Picerno. Ultima affermazione l'Adriatico lo scorso 13 novembre col Messina. Per me, per la squadra, per il momento che stiamo vivendo, domani è una partita importantissima. E proiettarci a quello che è il futuro, oltre questa partita, io mi limiterei veramente al pensiero dell'evento sportivo. Perché, ripeto, visto il nostro periodo ha un'importanza stratosferica, quella di domani. Ci attendiamo nel nuovo anno di rivedere il vecchio Pescara. Non il vecchio di recente, ma quello che ha incominciato la stagione. 27 punti, settimo posto per il Latina, che finora ha fatto registrare un rendimento altalenante. All'inizio sei risultati utili, quattro vittorie, due pareggi, poi due punti nelle successive sei gare. Quindi due successi e altrettanti pareggi, prima del debordante K.O. interno col Foggia nell'ultima partita del 2022. Indisponibili Rossetti, Antonio Esposito, lo squalificato Giorgini, il pescanese Marco Teraschi, ex Delfino Flaccoporto, ora Delfino Curi Pescara. Ceduto al Trento l'attaccante Cristian Carletti dal Pescara, è arrivato in prestito l'argentino ex potenza Nicolas Belloni. Sistema di gioco 3-5-2, il probabile 11, Cardinali tre pali. Nel cuore della difesa, Cortinovis, Andrea Esposito e Lex Celli. Sulle fasce, Sannipoli e Tessiori. A metà campo, Bordin, Amadio e Lex Riccardi. In attacco, l'Aquilano, Luca Fabrizi e Margiotta. Così il tecnico Daniele Didonato. Domani affronteremo una squadra importante, quale è il Pescara. Però come tutte le cose, la prima partita dell'anno ci saranno sempre delle sorprese. Quindi dobbiamo affrontare la partita in maniera giusta, con la giusta cattiveria e aggressività e cercando di portare a casa punti importanti. Intanto sport e calcio in lutto, profonda commozione. Non potrebbe essere diversamente per la scomparsa di Gianluca Bialli. Il pensiero di Alberto Colombo. Seppur non con la stessa gravità, molte volte, visto quello che io ho trascorso, ci pensi e ti rendi conto quanto poi sei fortunato. Ma è un grandissimo dispiacere che tante persone debbano soffrire e chiaramente persone come dell'importanza a livello mediatico come Bialli ci lasci. Quindi è un grande dolore per tutti. Infine uno sguardo ai precedenti, soltanto 5 dal lontano campionato 1969-70. L'Adriatico, un solo successo, storia di 49 anni fa. 27 gennaio 1974, Serie C. Il Pescara di Tom Rosati, poi promosso in Bisi, impone 2-1. Reti di Battiston, Serato e di un giovanissimo Alessandro Spillo Altobelli su calcio di rigore al minuto 89. Quindi un K.O. gol nelle immagini dell'ex Jonatas il 18 ottobre 2013. La stagione successiva, sempre in B, finisce 1-1. A Melchiorri, ispirato da Politano, risponde Pettinari. Ultima sfida in Abruzzo il 20 maggio 2016. Il Pescara di Oddo impatta 1-1. La sblocca Gianluca Lapadula. Al decimo della ripresa, il pareggio di Dumitru.